Buonasera ragazzi, buonasera, ovviamente mi sono perso la partita perché ero al lavoro e vabbè un amichevole contro l'Arezzo, ma non sono qui a parlarvi di questo se non a rendervi partecipi del fatto che io devo fondare qualcosa. Tu dirai un viola club? No, no, qualcosa di più grande, sono qua a rendervi partecipi del fatto che sto per fondare un'associazione, un'associazione libera, libera, non ci sono diciamo quote partecipative, io non è che sto lì a chiedere soldi, no, è un'associazione libera, si chiama AVDB, associazione vedove di Benassi, ragazzi basta con questi carri, carretti, il carro Zurkowski, il carro Cabral, il carro Icone, un'associazione perché i carri in realtà sono un qualcosa di limitato, ok? Cioè ci sali sopra, poi ci sono i posti che sono quelli che sono e te ne vai, invece no, un'associazione che ragazzi badate bene, questa associazione ha l'obiettivo dichiarato di trattenere Benassi, ok? E questo è un obiettivo esplicito, non è detto che ci riusciremo, però proprio la natura di questa associazione, io intanto la fondo, poi verso metà marzo, aprile, cominceranno a venire su sempre più iscritti, ok? Iscritti che comunque, ripeto, sono liberi, poi io se volete lascio anche il mio IBAN, quello che volete, ci si prova anche a trattenere, ma Benassi non rimane, non rimane per soldi, quindi basta, quindi mi dispiace. Un giocatore che nel 2018 ci ha levato dallo schifo, quest'anno è stato escluso per le liste e perché doveva fare spazio a Zurkowski, cioè dice Buschis, tu ci avevi Ciavi, no, Zurkowski, che anche solo a dirlo ti viene proprio il brividino, quello no? È quello come quando tu mangi piccante, il Zurkowski, e quindi noi abbiamo rinunciato a questo giocatore che però, che però oggi è entrato e anche stavolta ci ha salvato da una grossa figura, vabbè, ma sono dettagli, perché contro l'Arezzo ragazzi, sono buoni tutti a segnare contro l'Arezzo, Capra no, ma contro l'Arezzo ragazzi, sono buoni tutti, anche quello della primavera fa go, Capra no, ma quello della primavera sì, ma perché sono buoni, tutti. Poi, tra l'altro, l'associazione AVDB, se davvero, davvero, riuscisse a confermarsi e a confermare lo stesso Benassi potrebbe diventare ABC, cioè senti qualcosa di essenziale, elementare, qualcosa che ti insegnano elementari, dici che vuol dire ABC? ABC, associazione, anzi, ancora Benassi Capitano. Quindi basta associazione, ma un motto, ancora Benassi Capitano. Uno direbbe, allora, birai, no, no, ABC, ABC, torna meglio, ancora Benassi Capitano. Perché ancora, perché lui è già stato Capitano, Capitano nel Torino, e un ragazzo dice, ma come fa un ragazzo di dieci anni di esperienza in Serie A che è stato anche Capitano di una squadra che, insomma, non è che è la squadretta che viene su per sbaglio in Serie A, lo fanno Capitano perché è dalla Serie D, cioè, del Torino, del Toro, ragazzi, è una squadra che ha una gloria, un tifo. E come mai questo è finito fuori lista per far parte, far spazio a Zyrkowski? Allora, ragazzi, io rinnovo la vostra partecipazione libera, libera, già da adesso io mi porto avanti, quindi associazione vedove di Benassi è libera, aperta a tutti, c'è spazio per tutti, non è come i carri, come dicevo, quindi non ci sono posti limitati, durerà per sempre, quindi vita naturale durante, potete tranquillamente iscrivervi, non ci sono tessere associative, se non qualche donazione, così, e proveremo a fare l'impossibile, a trattenere Marco Lone Benassi, perché io dico rispetto per Marco Benassi.